Poco più di due mesi alla fine dell'anno scolastico eppure qui a Pescara non sono partiti i corsi integrativi, le attività integrative scolastiche. Perché Pignoli? Perché ancora una volta questa è la colpa di questa amministrazione inconcludente e che pensa soltanto a fare festival d'annunziani e consulenze ingiustificate. E invece sarebbe stato più utile garantire attività extrascolastiche per bambini che non possono, magari delle scuole primarie, secondarie, attività che riguarda ginnastica, musica, arte, calcio e quant'altro? Sì, questo è il paradosso. Si trovano ragazzi che in questo momento storico hanno i genitori in disoccupazione, non hanno possibilità economica di scriverli a dei corsi di ginnastica e quant'altro. Per cui negli anni precedenti, come tutti gli anni, c'erano queste persone che praticamente facevano dei corsi post scuola e queste attività didattiche. Oggi invece che cosa è accaduto? Che questo è stato eliminato, per cui due problemi. Persone povere, di cui famiglie sono povere, stanno a casa o vanno a giocare a pallone sotto cortile e non possono fare ginnastica come l'hanno fatto praticamente e come farebbero in tutti i plessi e in tutta la nazione. Le associazioni ferme? Ma di converso, persone che vivevano di questo durante l'anno, perché insegnavano, perché facevano, anche queste paradossalmente ferme. Ecco, l'amministrazione comunale di Pescara spendeva circa 180 mila euro a due mesi dalla fine dell'anno scolastico. Stanno partendo le lettere per autorizzare le associazioni e le fondazioni a svolgere queste attività? Sì, il paradosso dopo il danno la beffa perché mi dicono che sono partite delle lettere di autorizzazione presso delle scuole che autorizzano appunto queste attività, sì, ma a due mesi dalla fine dell'anno scolastico con un taglio importante di circa 20%.